Torino come Berlino. Il sindaco del capoluogo piemontese Piero Fassino è d'accordo con la metafora utilizzata qualche giorno fa da Giuliano Amato, che descrive la nostra città in costante movimento e capace in pochi anni di rinnovarsi profondamente, così come è capitato alla capitale tedesca dalla caduta del muro. Questa è la premessa con cui il primo cittadino torinese ha aperto il tradizionale incontro di fine anno, a solo sei mesi di distanza dall'insediamento a Palazzo Civico. Il ciclo di crescita avviato dalla nuova amministrazione comunale si fonda su sette pilastri portanti, dal rilancio dell'economia agli investimenti per infrastrutture e riqualificazione ambientale, dall'obiettivo smart city per una città intelligente e tecnologica, fino al coinvolgimento diretto dei cittadini nelle nuove politiche di welfare. Questa innovazione ha un costo, un costo che la città farà fatica a sostenere considerati pesanti tagli in arrivo. E così Fassino ha deciso di ribellarsi al governo annunciando l'uscita della città dal patto di stabilità interno, ovvero di non rispettare le leggi economiche nazionali che impongono tetti di spesa agli enti locali. Una scelta obbligata, dice il primo cittadino torinese, per evitare un taglio di 120 milioni di euro dalle spese per i servizi ai cittadini e di posticipare il pagamento di oltre 220 milioni ai fornitori del comune. Per quanto riguarda il 2012, la speranza del sindaco è che il governo riveda le norme del patto. Perché, ha aggiunto Fassino, investire non significa sprecare. Se dovessimo rispettare questi tetti dopo i tagli che i governi hanno fatto con le manovre negli ultimi tre anni, dovremmo ridurre di 120 milioni i servizi ai cittadini e dilazionare ulteriormente 200 milioni di pagamento alle imprese che hanno fornito servizi alla città. Fassino ha chiuso l'incontro di fine anno promettendo ai cittadini di mantenere la qualità e la quantità dei servizi offerti dal comune, nonostante le difficoltà che arriveranno nel 2012. Auguro a tutti i torinesi un 2012 sereno, un 2012 in cui ciascuno possa vedere soddisfatte le proprie esigenze, le proprie aspirazioni. Auguro soprattutto un 2012 sereno alle persone che in questi mesi scorsi hanno vissuto una condizione di maggiore disagio, di maggiore difficoltà, di maggiore fragilità.